Svegliati Alessandri, oggi è il primo settembre 2020, ci troviamo qui in fondo a Via Tortona nel piazzale antistante la casa di riposo Basile. Ecco, volevo insieme al professor Manzini adesso che lo raggiungo farvi vedere una situazione, lo stato di questi marciapiedi, che sono praticamente impossibili e impraticabili camminarci sopra, ma la cosa che più ci ha colpiti in modo negativo è questo tratto. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo passati casualmente da queste parti per altre questioni e abbiamo visto questa situazione veramente incresciosa, credo che in Alessandria o anche in altre città io cose di questo genere non l'ho mai vista. Praticamente questo è un marciapiede, quello che rimane di un marciapiede. Ormai le radici di questi erbassoni che hanno raggiunto, si sono piegate da quanto sono alte, hanno raggiunto i due metri. Lo faccio vedere da questa prospettiva. I due metri, quindi credo che nel giro di qualche mese, forse il prossimo anno noi avremo il proseguo di questo prato, di questi prati su questa zona qua. Quindi senza neanche investire nel verde, avremo qualche metro quadrato in più di verde, avremo qualche metro quadrato in meno di marciapiede. va bene, insomma, prendiamole così con filosofia, ci sarà più ricambio, diciamo, ossigeno, anidride carbonica e via. Guardate e osservate, riprendi bene, guardate qua, qua, ecco qua. Direi che un minimo di decenza, eh? Qualche operaio, qualche, qualche, qualcuno con reddito di cittadinanza, eh? Non si potrebbe mandare qui. Sì, anche una scuola qua. Esatto. Va bene, arrivederci. Vita!